Amici di Sempre Curiosa, rieccoci insieme. In questo appuntamento sono davvero felice di riportare al vostro ascolto e soprattutto dare rilievo ad un'associazione genovese che si chiama Musica Amica. Molto spesso noi ne abbiamo parlato grazie a una partnership che abbiamo insieme, ma soprattutto per le bellissime attività che svolge sul territorio. E allora, proprio per scoprire che cosa ha in serbo in questo periodo, abbiamo in collegamento Giovanna Savino, che è proprio la direttrice di Musica Amica, insieme all'assessore di Santa Margherita Ligure, Beatrice Tassara. Siamo, quindi, come dicevi tu, a Villa Durazzo e nel sedicestimo anno che qui, appunto, a Santa Margherita si tengono i corsi di alto professionamento di musica in cui c'è l'insegnamento e il professionamento di l'autotraverso, di pianoporte, di violino, di chitarra e di tanti altri strumenti, anche di canto. E qui con me è anche l'assessore Beatrice Tassara e vorrei presentarti, Giorgia. Molto volentieri. Allora, diamo il benvenuto anche all'assessore che sicuramente è lì per sostenere questo grande progetto di Musica Amica. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. E certo, ormai tra l'altro ho fatto di Giovanna come di un'amica, perché in questi anni di grande estima e di condivisione, non solo di spazio, ma anche di intenti e di volontà di offrire in questo che è il nostro sabato buono, Villa Durazzo con il suo parco, Villa San Giacomo dove siamo adesso, è proprio un posto favorevole anche alla ricerca di pensiero, alla ricerca di bellezza, alla ricerca giusto di perfezionamento, di sensibilità. Giovanna Sabino in tutti questi anni ha condotto veramente con grande attenzione e pazienza questo progetto, che tra l'altro si riversa assolutamente alla città, perché Giovanna non solo gestisce questi corsi, ma cura per lui Santa Festival, scegliendo e proponendo per tutti una serie di concerti veramente di alta qualità e sempre scelte in considerazione dell'ambiente e del tipo di, come dire, di gradevolezza che vogliamo curare insieme in quest'ambiente. Quindi noi abbiamo molta gratitudine per Giovanna Sabino e un'alta considerazione per questi corsi di alto perfezionamento. Anche noi vogliamo perfezionarci attraverso l'entusiasmo di questi insegnanti e di questi ragazzi. Assolutamente. Complimenti per il lavoro che state facendo, anche perché è non soltanto a sostegno della musica, a sostegno dei grandi talenti, dei giovani, ma anche è un modo per valorizzare le bellezze del nostro territorio. È vero, Assessore? Certo, certo. E le bellezze del nostro territorio devono rimanere non fine a se stesse, ma vissute, condivise e appunto offerte, offerte alla funzione sotto tanti punti di vista. Il turista che passa, il residente che c'è tutto l'anno, la persona che fa ricerca. Ecco, stiamo aprendo i nostri ventagli per il caldo, apriamo i ventagli della mente su tutte le sfumature che possono essere contenute nei luoghi di bellezza che per fortuna noi possiamo vivere. Certamente. Ricordiamo appunto che nello specifico la struttura, l'edificio storico che state valorizzando in questo momento è Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure. Ma adesso vorrei tornare a parlare un attimo con Giovanna, perché in questo momento voi state assistendo a un incontro davvero molto speciale. E quindi ci farebbe piacere che tu ci raccontassi della presenza di un grande maestro che è lì per incontrare gli allievi di questi corsi di alto perfezionamento e quindi privilegiati di avere davanti il maestro Andrea Bacchetti. Certo, sì, lo abbiamo invitato. Lo abbiamo invitato perché vogliamo offrire un'opportunità un'opportunità ai ragazzi che studiano, sia ai ragazzi che studiano pianoforte e che stanno facendo quel corso con la professoressa Irene Veneziano, ma anche agli altri studenti che studiano altri strumenti. Ecco, potete sentire, forse si sente da lontano, ma abbiamo delle esecuzioni proprio nella sala di là del maestro Bacchetti che sta facendo vari esempi e sta rispondendo a tutte le domande dei nostri ragazzi. Ecco, a proposito di domande, riusciamo a disturbarlo noi qualche minuto al maestro Bacchetti per fargli due domande noi in prima persona, così intanto lo salutiamo, ci fa piacere, è stato già ospite nostro diverse volte. Allora, vicinati. Certamente, ci recchiamo dove lui adesso sta suonando. Ok, allora noi ti seguiamo con la telecamera, vai Giovanna, siamo pronti per il tour musicale. in Villa Durazzo per i corsi di alto perfezionamento organizzati da Musica Amica. Ecco qui il maestro. Allora, avviciniamo, facciamo avvicinare il maestro al telefono così riusciamo a sentirlo. eccolo qui. Allora, Andrea, noi ci siamo sentiti già diverse volte, è davvero un piacere, un onore, riavverti ospite del nostro programma e soprattutto in questo contesto pieno di giovani, pieno di tanti talenti. Quindi tu sei lì per portare il tuo contributo. Sì, sì, sì. Ebbene, quindi, altrettanto io sono contentissimo, poi qui c'è la signora Veneziano che è una pianista delle maggiori italiane in tutti i tempi, della sua generazione, che è più di me, purtroppo, ogni giorno. Ti fa onore, Andrea, dedicare un po' del tuo tempo anche a questi giovani talenti che hanno bisogno di esempi come te. Ma, a proposito di musica, io so che è uscito un tuo disco dedicato alla musica di Bach. Sì, ci dicono, tra dicembre lo ventemperato, volume secondo di Bach, ci ridoppio perché tutto su uno non ci sta. E sono 24 periodi e due in tutte le normalità maggiori e minori. Il brano è un capolavoro. C'è un filosofo famoso del secondo corcento che diceva che tra dicembre lo ventemperato di Bach è il Vecchio Testamento e le sonate di Beethoven sono il Nuovo Testamento. Adesso siamo sul Vecchio Testamento. Allora, complimenti Andrea. Diciamo anche ai nostri amici che ci ascoltano che questo disco, che intanto state vedendo in sovraimpressione, lo potete trovare su Amazon. Quindi, gustarvi appieno la musica suonata dal maestro. Sì, ma sarebbe ancora meglio contattare direttamente l'interno. Assolutamente. Perché nel suo sito hai contatti, ha le mail e tutto quanto e perché chi lo volesse comprare così ha, come si chiama, ha diritto a degli sconti speciali. Certo. Allora, diciamo il tuo sito. E anche l'autografo, volendo. Si ponendo anche l'autografo. Come si chiama il tuo sito? Diciamo il tuo sito. Andrea Bacchetti.net Andrea Bacchetti.net Perfetto. Andrea Bacchetti.net Andate a cercare, cercate soprattutto questo album e godetevi questa musica stupenda del maestro. Grazie per... A voi, a voi. Grazie. E finitamente, tanto seppi anche a lei. Ci mancherebbe. Allora, lasciamo a proseguire, insomma, questo incontro con i giovani in Villa Durazio. Stiamo spiegando una fuga, appunto, perché di vita in tre. Adesso continuiamo. Grazie e buona sera. Alla prossima e buon lavoro. Giovanna, torna da noi. Ecco. Ecco, li lasciamo di là al lavoro. Li lasciamo di là al lavoro perché sono state facendo, chiaramente, dimostrazioni di altri brani, di altri brani molto importanti. E i ragazzi sono molto interessati e in occasione questa pubblicità. Senti, Giovanna, quanto è importante per questi giovani trovarsi davanti a un maestro con tanta esperienza alle spalle e quindi magari imparare davvero sfumature che altrimenti forse non sarebbe possibile. ricchezza, sono ricchezza che sono state create in tanti anni di studio e essere a contatto con un maestro che ha vissuto queste cose e che ha creato, si è creato queste cose. sono veramente importanti perché vengono trasmette. Allora, grazie. Grazie, Giovanna. Mi raccomando, tienici sempre aggiornati su queste attività. Noi siamo felici sempre di condividere con gli amici di Sempre Curiosa quello che fate perché è prezioso ed è bellissimo. Quindi ancora tanti complimenti. Ringraziamo però anche l'assessore Beatrice Tassara. Le facciamo un saluto. Grazie, grazie. Allora, siete bellissime, siete sorridenti, ci piace vedervi così. Grazie. Grazie, grazie Giorgia. Alla prossima, un saluto, a presto. Ciao a tutti amici, sono Joy. Oggi sono qui con voi perché vi voglio presentare il mio primo libro. Eccolo qui, guardate che carino. Si chiama La lista dei sogni, per non dimenticare chi siamo. È un'immersione totale proprio nel mondo dei sogni, nei miei in primis, ma con questo libro io rifletto partendo dai miei per arrivare anche ai vostri. E spero che possa essere veramente un modo per ricordarvi quanto sia importante sognare nella vita. Sognare cose possibili e impossibili. Quindi, se vi va di leggerlo, cercatelo su Amazon, La lista dei sogni di Giaika Denasso. Amici, sono qui per ricordarvi che sono aperte le iscrizioni per la terza edizione di Palco d'Autore, il contest nazionale dedicato agli autori, ai cantautori e agli interpreti. Basta avere compiuto il quattordicesimo anno di età. Una nuova opportunità per presentare il vostro progetto, per i cantautori, per le band. Basta inviare il materiale, quindi un brano edito o inedito, alla nostra mail info-palcodautore.it Ci siamo quasi! Bellissima puntata anche oggi, speriamo sia piaciuta davvero anche a voi con i contributi che vi abbiamo proposto. E niente, non ci resta che salutarci purtroppo perché finisce qui, ma noi torniamo presto con nuovi argomenti, nuove novità, soprattutto nuove curiosità. Mi raccomando, tenetevi in contatto con noi attraverso i social, attraverso il nostro sito www.semprecuriosa.it e potete scriverci a redazione semprecuriosa-gmail.com se avete qualcosa da raccontarci. Per il momento un bacio super gigante da gioia da tutta la redazione di Sempre Curiosa. Alla prossima! Alla prossima!